E' buio in un mio video e da un po' che non si vedeva così poco in Minecraft Ma oggi proviamo dei nuovi oggetti di armatura che Minecraft probabilmente aggiungerà in 1.17 E credo che questa cosa qua del buio c'entri appunto col primo oggetto che andremo a craftare oggi Che è questo qui che si crafta con la pozione di Night Vision, cioè quella che ti fa vedere nel buio Una torcia di blocchi, diamante e un elmetto Quindi ragazzi benvenuti e bentornati in questo nuovo video dei crafting di Minecraft E tanto mi piacciono, quindi se volete che la serie dei crafting continui dobbiamo superare i 4.000 mi piace So che ce la possiamo fare, quindi mi raccomando Allora, noi craftiamo il primo oggetto che appunto ci darà la possibilità L'elmetto che ci farà vedere nel buio cosmico Ed è bellissimo ragazzi, guardate che bello che è Con una torcia che ha appunto sopra, ok E... ma... ragazzi perché... no ragazzi lo sta pulsando il sole Cioè il sole, chiamarlo il sole un eufemismo, è la luna in realtà Ma in realtà così non si vede assolutamente nulla Mi hanno truffato E dov'è la mia torcia? Ragazzi dov'è la mia torcia qua sopra? Perché allora in pratica funziona così Mi dà 4 secondi di Night Vision Però i 4 secondi di Night Vision danno questo effetto qui a modo di discoteca E io non sono per niente felice di questa cosa qua Vabbè possiamo già proseguire col prossimo oggetto che andremo a craftare oggi ragazzi Allora vediamo Droppa tutti i diamanti in giro per la mappa E guarda cosa succede perché qua abbiamo una chest con all'interno Tantissimi diamanti, dell'apis e dell'iron per craftare appunto questo oggetto con la redstone Quindi ora craftiamo il nostro elmetto che è craftato in questo modo Che si fa così ed è fatto di metà del redstone Metà lapis e metà ferro Ma... sembra un po' l'elmetto della Francia Ed è chiamato Magnetic Helmet Quindi è l'elmetto magnetico Ok allora in inglese ragazzi il GN si dice Magn in questo modo Però vabbè allora qui c'è scritto Droppiamo tutti quanti i diamanti che ci sono in giro E vediamo cosa succede What? Belle quelle particelle Cioè noi riusciamo ad attirare quindi tutti quanti gli oggetti che ci sono in giro Vediamo appena ci avviciniamo ragazzi Siamo fermi un attimino Allora così Ah ma spariscono direttamente nel mio inventario Non fanno l'animazione che vengono trascinati da me Ma... ma ragazzi non riesco neanche a tenere l'inventario che torna subito da me Bello! Ok Questo elmetto qua potrebbe essere carino per ora Sicuramente meglio del primo elmetto Cioè quello che ci faceva vedere nella notte È un po' un po' un po' derudente questa cosa Però ci può stare questo elmetto Mi piace mi piace Allora già il secondo è carino Proseguiamo col terzo oggetto Qua abbiamo del diamante che si fa in questo modo Con poi l'elmetto di tartaruga al centro Il conduit e i due cuori del mare Va bene Allora vediamo assieme cosa fanno questi due Questi... questo oggetto qua craftato Allora andiamo direttamente qua col diamante E abbiamo ottenuto un bellissimo elmetto completamente azzurro ragazzi Allora premiamo questo E... ok vado giù direttamente nell'acqua Mettiamoci l'elmetto E... ci... non lo so cosa ci starà Abbiamo il potere del conduit Quindi abbiamo praticamente... possiamo respirare quant'acqua vogliamo Cioè quant'aria vogliamo Cioè guardate le bollicene ragazzi Non scendono Quindi è come se noi avessimo il potere del conduit Con noi per sempre Possiamo rimanere in mare tutto il tempo che vogliamo Questo è veramente devastante ragazzi per andare nei monumenti oceanici Perché così praticamente non scarichiamo mai l'ossigeno che abbiamo con noi E possiamo esplorare tutto quello che vogliamo all'interno dell'oceano Questo oggetto qui ragazzi lo sapete che quando noi facciamo i crafting Ogni volta proviamo a vedere quali oggetti sarebbe bello poter avere in vanilla Questo sarebbe veramente un oggetto super utile E anche il crafting è diciamo molto semplice È molto utile come oggetto Mi piace Ci può stare A livello di utilità per ora questo qui secondo me è il più bello E lo teniamo direttamente qua Così per ricordarci che è per ora il migliore oggetto che abbiamo trovato fino adesso Poi andiamo col quarto crafting Uh questa volta mi sa che abbiamo dei piedini Ok diamo un occhio un attimino a questi piedini Cosa fanno intanto mangiamo anche un attimino Allora sono fatti di iron Quindi saranno dei piedini super super resistenti in questo modo E abbiamo appunto dei piedini super grigi Ivi boots Che sono dei piedini che per ora sono super tranquilli Però facciamo così Secondo me dobbiamo evocare un mob Vediamo Sammoniamo questo bellissimo zombie Vediamo cosa Non prendo knockback What? Ah ok ho capito perché non prendo knockback Perché il crafting era fatto dal blocco di ferro Che praticamente ci tiene fermi saldi al terreno Quindi non possiamo mai prendere knockback contro nessun mob Ah ok Io l'accetto eh ragazzi Sicuramente l'accetto Io proverei la roba più rischiosa dell'universo Con un creeper Però qua rischiamo veramente di morire Vediamo che se prendiamo knockback Non prendiamo knockback ragazzi Ok Carini Carini Ho apprezzato di per sé l'oggetto Che ci può stare In più ci rende comunque un pochino lenti Se corriamo normalmente Come vedete siamo un pelo più lenti Però di per sé quando corriamo Neanche la sentiamo questa lentezza Ci può stare Quasi così li tengo anche su Poi Proseguiamo con questi Che si fa Questo qua è elmetto Quindi torniamo nella sezione elmetto di minecraft Poi magari più avanti abbiamo anche dei video di crafting con le chestplate Allora Elmetto con le shell e i chorus Ed è un elmetto completamente viola E il metto della tranquillità Ok Va bene Io ci posso stare ragazzi È un nuovo un po' strano Però va bene Allora Ehi Aiuto 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 Ho l'evitation Ehm Non Avrò l'evitation per sempre Quindi mi state dicendo Però vediamo se i nostri piedini ci Ragazzi ma i piedini danno anche resistenza Perché io da quell'altezza qui sarei dovuto morire Ah Ottima combo Ecco perché ce l'hanno messi prima di questo elmetto Perché così Provando nel elmetto di levitazione Quello della tranquillità Chiamiamolo così Avevamo praticamente una resistenza alla caduta Riproviamo Perché secondo me da questa altezza qui Noi dovremmo tecnicamente morire Non avendo il resto dell'armatura Togliamoli Perché tanto abbiamo altri 4 secondi di levitation Da qua dovremmo per forza morire ragazzi Quindi vediamo se i piedini sono realmente OP I piedini sono veramente OP ragazzi Quei di Iron Tanta roba Mi piacciono Mi piacciono Il metto di per sé è carino Però niente di troppo esaltante Ok Però Altri piedini Uh Allora Pozione di speed E delle piume Ok Questa credo che tipo siano I piedini della super velocità Vediamo un attimino Cosa ci faranno fare Allora E abbiamo questi piedini super grigi Eh grigi Scusate i marroni Perché mi è uscito grigi Allora Proviamoli assieme A parte che comunque Questi piedini qui Sono anche un po' consumati Con le cadute Però neanche più di tanto E Cos'è stato sto rumore Oh Oh Ma È come se avessimo speed Per tot secondi Ma si deve anche ricaricare A quanto vedo Vediamo Allora È molto strana come cosa Perché a un certo punto Ho avuto speed Per pochissimi secondi Ma Perché adesso non ce l'ho più Facciamo così Togliamoli e rimettiamoli su Un attimo Aiuto Qualcuno può darmi Una spiegazione a questa cosa Perché ho avuto speed Per pochissimi secondi Adesso non più Non lo so Allora facciamo così Facciamo finta di nulla Craftiamo l'ultimo oggetto E poi se risentiamo Quel rumore che Io ho sentito Ancora l'ho sentito Vediamo adesso Ho anche una particella Oh Abbiamo speed per davvero Ma è già finita Cioè non posso andare a sbattere Contro gli oggetti Che sennò finisce la speed E poi si deve anche ricaricare Carini eh Ancora Oh Vedete che adesso speed Ma sono andato a sbattere Contro il blocco È finita Dannazione Vabbè Allora ragazzi Lasciamo stare a questo punto Craftiamo l'ultimo oggetto E via Allora Carote E i baili in questo modo Ho sentito ancora l'oggetto Altre particelle E andiamo a craftare questo Nuovo Elmetto Credo che Oppure sono i gambali questi Non lo so Vediamo un attimino No è nel metto Il farming è Il farming hat Vediamo E qua dentro c'era dei seeds Quindi tecnicamente Proviamo a piantarli Vediamo cosa succede Allora Io pianto qua i seed Vediamo un attimino Magari Crescono stare in fretta Vediamo Questo qui è cresciuto subito In fretta Io rimango qua fermo Vediamo un attimino Se succede qualcosa Togliamoci questi piedini Che sono fastidiosissimi Ragazzi ma Allora Questo farming hat A quanto vedo Fa sì che Tutti quanti gli oggetti Che abbiamo coltivato Crescano iper in fretta Anche questo è cresciuto Guardate quanto No Ragazzi Crescono veramente Un po' troppo in fretta Il grano qua È già quasi fatto Carino Questo qui È il metto Veramente molto utile A poter utilizzare In vanilla ragazzi Perché guardate Praticamente ha tolto Prima della bone meal Sono cresciti Anche i fiori Bianchi Ma E questo grano qui È già pronto Ma non ci credo In quanti secondi L'abbiamo fatto Ancora No vabbè Allora ragazzi Questo qua È un elmetto letteralmente OP Per le farm di minecraft Questo sarebbe molto utile Nella big vanilla Nella mia farm di cibo Con tutti quanti gli altri ragazzi Però Ragazzi Io spero che questo video qua Vi sia piaciuto Dovete lasciare un bel mi piace Un bel commento Qua dietro la farm È già praticamente fatta Ok Sarà passato un minuto Ma Lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivetevi al canale Se ancora non avete fatto Scegliete uno Due video qua davanti Vi ricordo che ogni giorno Escono due video al giorno Uno alle 5 e mezza E uno alle 7 e mezza E noi ragazzi Ci vediamo presto il video Iscrivetevi E attivate la campanellina Su tutte quante notifiche E da Mark è tutto Ciao ciao